L'orario di lavoro Se il soggetto è il lavoratore, esso deve partecipare alla modalità della sua prestazione. Non può semplicemente rimettersi, lasciare che il padrone decida tutto. Oggi noi si stiamo, secondo me, in modo molto pericoloso a un frazionamento della classe operaia, alla perdita di rilievo della figura stessa del lavoratore come interlocutore. E' vero, questo lo stiamo perdendo. Noi abbiamo perduto anche quella possibilità che era così importante, in cui il lavoratore rivendicava, e rivendicando per sé, rivendicava anche per gli altri. Questa era la formula della democrazia economica, questa era la formula dell'autonomia, rivendicare per sé e rivendicare per altri. Quando finisce il clima rivendicativo, si resta un po' smarriti. Io rimango abbastanza smarrito, lo dico francamente. Di Vittorio era una figura complessa, il quale naturalmente lottava per la classe operaia, ma pensava sempre a tutti, pensava al suo paese. Diciamo pure, se vogliamo, era un patriota vero, un vero patriota, nell'atto stesso in cui difendeva con orgoglio e sicurezza i contratti di lavoro. Ecco, allora questo bisogno che si sentiva, per cui il sindacato non è soltanto la difesa immediata dei propri interessi, ma lega la ricerca dei propri interessi a qualche cosa di più generale. E quindi si fa politico. Ecco, in questo senso Di Vittorio era un grosso personaggio politico. Però devo dire che il ricordo di Vittorio per me è il ricordo di un maestro. Ecco, io l'ho anche scritto nelle cose che ho pubblicato. L'unica persona verso il quale mi sento debitore di idee politiche è Di Vittorio. Ed è strano perché poi era un uomo empirico, molto più vicino alla pratica, no? Eppure, che cos'è che mi affascinava? Il senso che gli aveva dell'unità dei lavoratori. Lui chiedeva che si pensasse ai lavoratori non soltanto per la loro tessera, per la loro convinzione, ma per la loro condizione come lavoratori. E come collaboratori allora uno poteva essere cattolico, poteva essere di sinistra, poteva essere moderato, ma lui aveva bisogno di pensarsi come lavoratore. E questo a me mi ha insegnato molto, almeno mi pare che mi abbia insegnato molto. La fase di centralizzazione contrattuale Di Vittorio l'accettò anche con delle formule politiche divertenti, ne vero, dicendo che nella centralizzazione contrattuale c'era il modo di risentire l'unità dell'Italia e altre cose del genere. Però Di Vittorio, quando ci ponemmo, dopo le sconfitte della Fiat, il problema dell'articolazione contrattuale, Di Vittorio capì benissimo che bisognava aprirsi al mondo e non chiudersi negli modelli sempre omogenei. In questo di Vittorio per me è rimasto un esempio. Ma voglio dire che io avevo dei rapporti positivi, critici magari, ma sempre positivi, verso il prossimo. Voglio ricordare per esempio che io ho Oscar Luigi Scalpano, ero un mio collega. Io lo ricordo bene, nonostante le polemiche di allora, io lo ricordo come un uomo scrupoloso. Scrupoloso, ecco, Andreotti che ho conosciuto meglio, Andreotti certo presentava molti elementi più che ambigui, perplessità, che creava una perplessità, proprio la straordinaria sua intelligenza copriva con tanta capacità in vari campi che poneva dei problemi, però indubbiamente era una figura di grande interesse. E poi, devo dire, soprattutto nel Partito Comunista, togliati mi è sempre piaciuto molto. Ero molto legato a Riccardo Lombardi. Fino a che è stato possibile, ci siamo battuti per queste cose, del Partito d'Azione, Giustizia e Libertà, eccetera. Ma ci siamo durati veramente poco, perché la situazione poi è scivolata rapidamente nel regime dei tre grandi partiti. Ci sono molte cose ancora importanti, però ci sono anche molte cose da ripensare. Io non credo che dobbiamo pensare di modificare, dobbiamo intanto ripensare. Per esempio, la guerra di oggi non è più la guerra del 1900, è un'altra cosa, completamente. In mezzo c'è stata l'atomo, ma poi c'è un'altra cosa. Allora non c'era una cosa orrenda come quella che dal cielo tu puoi ammazzare senza che si sappia chi c'è su, che ti ammazza. Questa è una cosa orrenda, i bombardamenti, è vero, e altre cose del genere. Ci avessi da cambiare. Ci avessi da cambiare molte cose nella ricerca. La ricerca, una volta la ricerca era la ricerca del rapporto tra l'uomo e la natura. Adesso la ricerca è sull'uomo, è sulla vita e sulla morte. Questo crea dei problemi di responsabilità molto nuovi. Ci crea il problema di pensare al presente. Poi ci sono altre cose ancora sul modo di organizzare la nostra vita economica. Io non credo di aver vissuto con tanta pena l'aggravarsi delle disuguaglianze che si vede oggi. Oggi c'è un appesantimento delle disuguaglianze sociali fra paese e paese, e poi anche all'interno dei singoli paesi, ma soprattutto fra paese e paese, che diventa intolrabile. Quando io penso come si vive in gran parte del mondo, è una cosa intolrabile. E senza che io abbia ancora la capacità di cambiare queste cose. Perché queste disuguaglianze fra paese e paese sappiamo che nascono perché si nasce in un posto e in un momento, non perché per altre ragioni. E' una cosa la quale mi rende triste, l'idea della crescita delle disuguaglianze. Questa è una cosa da pensarci. E penso che le nuove generazioni, gli uomini che verranno dopo di me, vorrei che veramente pensassero soprattutto a questo. Alle nuove disuguaglianze. E all'aggravarsi delle disuguaglianze. Forse quando si parla di diritti di libertà, non si deve parlare in prima persona, ma si deve pensare ai diritti di tutti. Solo associando ai diritti il valore collettivo, noi possiamo dare un senso ai diritti. Un secondo punto, secondo me molto importante, è le garanzie. Quello che oggi è drammaticamente pericoloso nell'attuale governo, anche in Italia, è la poca attenzione alle garanzie. Anzi, il desiderio di farne meno, a partire dalle giustizie, ma anche a mille altre cose. Io penso che questo problema delle autonomie e delle garanzie è un problema fondamentale. grazie a tutti. you Grazie a tutti.